Torna a Napoli dopo il successo straordinario del 2012 con oltre 85.000 visitatori, Days of the Dinosaurs, la mostra dedicata ai grandi rettili del mesozoico in esposizione al real albergo dei poveri. Dal 9 ottobre al 10 gennaio 2016 si potranno visitare più di 30 esemplari a grandezza naturale animati con la sofisticata tecnologia animatronica, giganti progettati e costruiti fedelmente nell'aspetto e nei movimenti con il supporto di un team di paleontologi professionisti. Quest'anno è rinnovata sia dal punto di vista degli esemplari, cioè degli animali visibili, sia soprattutto dal punto di vista scenografico. Chi dovesse venire a vedere la mostra troverà un ambiente un po' più d'atmosfera, più evocativo e più immersivo per chi entra e si trova davanti a questi animali in movimento. Quindi le novità sono principalmente a livello dell'allestimento, anche se il posto è lo stesso, gli animali sono quasi tutti diversi, eccetto per i classici come il tirannosauro che è immancabile. Giochi di luci, suoni e allestimenti floreali offriranno ai visitatori un'esperienza unica. Un bel evento, ma siamo felici di ospitarlo all'interno dell'albergo dei poveri, che è un edificio sul quale l'amministrazione sta investendo molto, con una manifestazione di interesse ad esempio. E proprio in questi giorni riparteranno anche le lettere invito per sentire tutte le associazioni che hanno partecipato alla manifestazione di interesse. E quindi questa mostra è soltanto il primo momento di riapertura. Abbiamo terminato da poco le bonifiche dell'amianto per le parti interne, stiamo intervenendo con dei lavori di consolidamento, un edificio molto complesso che ha bisogno di tanta attenzione e dunque benvenga innanzitutto aprire con questo simpatico dinosauro che vediamo oggi qui, perché sarà certamente anche ben augurale. La mostra spettacolo sui dinosauri non trascura gli aspetti scientifici ed educativi. Giovani esperti saranno nelle sale per rispondere alle curiosità del pubblico e decine le attività per bambini tra giochi ed aree interattive.